La fiamma olimpica dagli Special Olympics è pronta ad illuminare l'Alta Valle. Oggi pomeriggio si è concluso il cammino della Torch Run, che dopo essere partito da Madesimo il 23 gennaio, ha attraversato tutta la provincia per approdare definitivamente nel cuore di Bormio, in piazza del Querce. I giochi dedicati ai ragazzi con disabilità intellettiva, in programma fino al 10 febbraio, metteranno alla prova 450 atleti, che si sfideranno nelle varie località di Bormio, Val di Sotto e Val di Dentro, in discipline come sci alpino e nordico, snowboard e corsa con le ciaspole. Questi sportivi speciali, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dalla Svizzera, hanno avuto modo di portare il loro entusiasmo a tutta la provincia, coinvolgendo anche ragazzi delle scuole, che ad ogni tappa non sono mancati ad accogliere a braccia aperte l'arrivo della delegazione Special Olympics, poiché il significato dell'evento, ma oltre alla sana competizione sportiva. L'obiettivo è oltrepassare i pregiudizi e sensibilizzare l'intera comunità sull'integrazione, per portare avanti una società sempre più inclusiva. Già nel fine settimana sono andata in scena nei premi e competizioni sulle piste di Bormio, ma la manifestazione entrerà nel vivo proprio in questi giorni, in cui gli atleti Special Olympics metteranno in azione il proprio motto con tutte le mie forze, slogan dell'omonimo concorso fotografico che permette a chi sarà sul campo di imbortarare i momenti più significativi dell'evento. I concorrenti di Special Olympics, infatti, impegnati nelle loro competizioni, daranno importanti lezioni di vita a tutti. Ognuno può partecipare al concorso presentando un massimo di tre foto al giorno, via mail a soichiocciolaspecialolympics.it, con oggetto hashtag con tutte le mie forze, oppure attraverso un messaggio privato sulla pagina Facebook dedicata. Le foto saranno via via pubblicate direttamente sulla pagina Facebook di Special Olympics Italia e vincerà la foto dell'album con più gradimento. La sfida ha ora inizio. Buoni Special Olympics a tutti!